Ehi ciao a tutti, io sono Cinzia ed eccoci qui di nuovo con il nostro amato The Sims Sul sul! Bene ragazzi, siamo di nuovo qui con Gabrielle e Lucia Innanzitutto volevo dirvi che non sono riuscita a sistemare la situazione della volta scorsa cioè l'errore dello script, quello di lì, non so perché ho riscaricato lo stesso pacchetto degli oggetti ma comunque non riesco a metterli ho letto qualcosa, dicevano che potrebbe essere un amodo che ho scaricato un materiale personalizzato che ho scaricato però vallo a trovare, come faccio? Ho 3000 cose quindi non lo so altrimenti dovrei cancellare tutto no, non lo potrei fare, cioè se faccio una cosa del genere, già l'ho fatta cioè diciamo una scrematura, togliere un po' di cose che non mi servivano comunque non sapevo cos'era, avevo detto via cancelliamo e adesso tipo mi ritrovo in città persone pelate già c'erano perché comunque è capitato altre volte di togliere qualcosa e quindi c'erano persone pelate ma adesso persone pelate, persone nude uffa come faccio? se no dovrei rifare proprio un lavoraccio, cancellare tutto o magari le ultime cose ma non mi ricordo cosa ho scaricato di recente va bene comunque volevo dire che oggi nella nostra città ho creato un'altra famiglia avendo ormai questa espansione dico vabbè io i vampiri li voglio un po' dappertutto quindi ho creato una famiglia con due fratelli adulti cioè una sorella e un fratello il fratello è un vampiro e la sorella è normale lui si chiama Klaus Michelson e lei si chiama Rebecca Michelson con loro vorrei fare un club soprattutto andremo a visitare il luogo dei vampiri perché non l'abbiamo visto ancora allora intanto vi faccio vedere questi loro due sono Klaus e Rebecca Michelson andiamo lei c'è ancora da sistemare lo so eh però per adesso teniamo così allora lei ha sonno si vuole divertire non ci andremo a divertire deve fare una doccia qui ci abita mi sembra un non so come si chiama comunque c'è qualcuno che ci abita e qui ci sono i Michelson quindi ora andiamo a conoscere sia loro che loro sia lui perché è uno solo sia loro telefono cos'è? devo iniziare a lavorare fra circa un'ora cosa desideri fare? vabbè vai al lavoro comitato di benvenuto giusto giusto cos'è successo a lui? anziano ma non era anziano allora cara alzati e dai il benvenuto invita i vicini buongiorno magari togliti il pigiama abiti cambia abito ecco che gli mettiamo quindi lei è Rebecca oh che carina mi ha portato cosa mi ha portato? che bello chiama a tavola spero che la torta alla frutta ti piaccia è una ricetta di famiglia che carini ma non sapevo lui fosse anziano scusate ma Klaus dov'è? c'è puzza? che puzza c'è? ma sono una cosa nuova ma che spingi puzza oh fai puzza Lucia ha scoperto il seguito di Rebecca macchina da ballo per aver mangiato una torta alla frutta scusate è a disagio per chi ha mangiato la torta alla frutta ha detto i vegetariani e perché è a disagio? non gli è piaciuta forse? blè qualcuno mangia davvero quella torta alla frutta ehi ma che discorsi fai? eccolo Klaus ciao ma che ha Klaus? ma cosa hanno tutti? ma perché sono tristi? è lui il nostro vicino pensavo cioè si somigliano hanno la stessa capigliatura quindi pensavo fosse questo forse questo abita nel quartiere è qui vicino crea un club un club Lucia aggiunsi il club vediamo se Klaus Rebecca Gabriel e poi Nico che mi fa simpatia e a chi la possiamo mettere le attività del club non so che cosa facciamo usa interazioni amichevoli facciamo con tutti abbracciamo tutti bevi bevande dal bar ah balla anche canta si facciamo balla e canta perfetto attività che non si possono fare lottare nel club questo club tra di noi non si può lottare dobbiamo essere tutti amici usa interazioni perfide il nome del club? non lo so l'orso perché l'orso è dolce ma a volte è anche aggressivo come non lo so perché l'orso perché l'orso? i migliori ti ritrovo del club se facciamo qualsiasi bar in generale ok eh che bello viaggia andiamo dai forza forza dai forza forza dai forza dobbiamo andare ecco tutti insieme andiamo a vedere oh eccolo qua forgotten hollow wow cioè ci credete non l'ho proprio visto sto quartiere allora casa cittadina widow widow shield tratto dell'otto covo vampiresco registrato centro vampiresco largo car glinter ah qui ci sono due vampiri vatore conte vladislaus straud quarto mamma mia ragazzi ehi salve conte presentazione amichevole eh sono un'amica perché non va bene entriamo tutti dai bus alla porta vediamola questa casa ma c'è tipo un cimitero cimitero ha bussato entra pure a destra c'era il cimitero qua no vediamo questa casa oddio cosa c'è giù la bara le bare dormi è un po' inquietante questa cosa accendiamo il cammino accendi saliamo su cosa c'è su altre sedie ah un letto ce l'ha un'altra camera da letto niente basta ancora sale ancora e che cos'è niente un balcone cos'è la cucina dov'è qua è un po' sporchina sta suonando allora secondo voi se io vado a cucinare mi ammazza facciamo maccheroni al formaggio per tutti ma il conte sembra comunque non va d'accordo con nessuno e loro dove stanno andando se ne stanno andando dove andate se ne stanno andando tutti che tristezza dove vai avevo fatto i maccheroni al formaggio niente mangiamo noi facciamo chiama a tavola dai mangiamo forza dov'è il dov'è il conte ragazzi avete visto ora risponda qua che bello si materizza dove vuole non gli piace guardate proprio si fa odiare da tutti no io lo devo conquistare cioè nel senso entusiasmati per i vampiri dobbiamo cercare di farcelo amico il vampiro conte ah ecco c'è un più qui guardate è bellissima questa cosa bellissima e quella canta no ora viva dove va che bello no vabbè bellissimo flertante è flertante sta vomitando perché ha vomitato il vampiro perché non può mangiare questo forse il conte che pulisce ma che cavolo sai tu esercitati a cantare esercitati chiedi la sua giornata che giornata secondo te qui sto a pulire i gabinetti ecco già meno ma perché ecco più mi pare a conoscere che c'è che è successo maria ma che ci stava provando gabriel ma ci sta provando scusate ma gabriel ci sta provando mi sa che gabriel ha cambiato orientamento sessuale tipo niente coperto eseguendo i tratti è malvagio proprio ma te la finisci di cantare tu ma cantando posa sexy ah gli facciamo la posa sexy gli ha fatto la posa sexy se è il conte chiedi se è single vediamo se è single il conte e si vladislaus dibatti sull'esistenza dei vampiri non esistono come non esistono io sono un vampiro come non esistono c'è anche lui vediamo se viene con noi facciamo azioni aggiungi al gruppo ecco e adesso ce ne andiamo a cantare io voglio fare un duetto condizioni viaggia andiamo al karaoke con il vampiro eccolo qui con noi sta bruciando guardate sta bruciando dove è andato? eccolo qua dentro allora io voglio fare un duetto con il vampiro c'è Akira flertante Akira perché questa conversazione? in realtà dai sbrigati che dobbiamo cantare canto in duetto pop con Valdiv non mi ricordo come si chiama dai ma perché che non può camminare mi sembrava la canzone che conoscevo sembra quella di Grease ma non per quella mamma mia che sonata non mi ricordo come si chiama che carini dove sta andando adesso? si è spoverizzato qua scusate ma c'è qualcosa che non va Gabrielle che è successo? è stanco è in piedi è la prima volta che li vedo in piedi a me non vanno mai in piedi in bagno perché? va bene ragazzi va bene va bene va bene diciamo che volevo fare il club volevo fare il raduno diciamo che volevo andare a vedere quella casa ma solo che erano tutti tipo stanchissimi sono stati poco se ne sono andati però abbiamo conosciuto il conte è stato molto malvagio no niente non riusciamo a legare a fare amicizia niente è malvagio lui però un pochino ci sto riuscendo ma ci riuscirò ti dico che ci riuscirò va bene ragazzi spero che l'episodio vi sia piaciuto ditemi un po' voi suggerimenti sempre sempre questi suggerimenti io li voglio li voglio i suggerimenti se avete qualche idea ditemela pure ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un pollice in su che io quando vedo i pollici in su sono felici perché significa che il mio lavoro vi è piaciuto quello che ho fatto vi è piaciuto quindi pollice in su iscrivetevi e commentate baci ci vediamo al prossimo episodio cioè sabato con un altro gioco mi sa mi sa si perché mi sa che sabato farò un altro gioco e la prossima settimana riporto minecraft non lo so ditemi cosa ne pensate vi vivi tantissimo ciao ragazzi